Agosto L'attesa del caldo congela anche i morti, che freddo che fa Ciao, siamo di Perturbazione e stiamo registrando una nuova session di Live in the Rare House dagli amici di Outlook Ti senti solo, non è vero che fa freddo allora perché tremi Se non è vero che hai paura, non è vero che ti senti solo